La tappa dell'Africa ci ha dato ancora degli altri elementi su chi sicuramente non potrà vincere il giro. Nibali ha dimostrato di andare forte però non abbastanza per riuscire a vincerlo. Se nelle prossime tappe riuscirà a tenere questo livello avrà qualche chance di arrivare nei 5, forse sul podio perché non si sa mai il giro ancora lungo questa settimana. Mentre i tre da Landa, Hindley e soprattutto Carapaz non riescono a fare la differenza uno con l'altro. Però non dobbiamo dimenticare Almeida che sembra sempre che mollare però alla fine perde poco e quindi arrivando all'ultimo cronometro con pochissimi secondi potrebbe ancora essere uno dei corridori che può puntare a questa magna rosa.